Ben ritrovati, ci eravamo in qualche modo illusi di aver chiuso la partita contro il Covid, invece siamo ancora qui a contare i casi positivi in Campania, c'è il pericolo di nuovi focolai, però la situazione sembra finora alquanto sotto controllo. Ne parliamo con un esperto, il professore Nicola Cone, infettivologo, per anni ha guidato all'ospedale Moscati di Avellino la divisione di malattie infettive, ben ritrovato professore, grazie sempre per la sua disponibilità. Allora, in Campania da Mondragone a Moschiano a Santa Lucia di Serino il Covid è tornato in qualche modo a fare paura, lei come se lo spiega? Ma non è, la spiegazione è semplice, erano dei risultati questi che stiamo avendo, del tutto attesi, per chi si intende di malattie infettive erano dei risultati del tutto attesi. D'altronde quando ci sono state le aperture a giugno e inizi luglio, era inevitabile che dei focolai qua e là si avessero. Se noi vediamo delle trasmissioni che ho fatto precedentemente, precedentemente questa era una delle previsioni, la più sicura previsione che ci fossero dei piccoli focolai qua e là. Questo è il momento del territorio, cioè inteso come territorio dell'Asla, la quale deve tempestivamente intervenire, fare i tamponi alle persone, tutti i contatti, isolare e quindi si risolve il problema. Io non ci vedo niente di nessun problema ma era, come dire, un fatto del tutto atteso. Quindi noi avremo dei piccoli focolai qua e là. Parte sono indigeni, cioè nostri, perché il virus comunque continua a circolare. Parte di persone che vengono da fuori da altri paesi, i quali vengono di sistemi sanitari scarsi, diciamoci la verità, quindi non vengono fatti i tamponi. Quindi pur stando la malattia questa non viene, come dire, repertata e quindi girano per l'Europa e anche in Italia. Quindi è un fatto, diciamo, del tutto atteso. Bisogna porre attenzione sia nei focolai, diciamo, cosiddetti indigeni proprio nostri, sia dei focolai che possono venire da fuori, soprattutto intercettando queste persone che vengono da fuori, fare i tamponi, isolarle. Ma io non ci vedo nessun grave problema, no. Solamente il livello di attenzione deve essere come sempre alto. Senta professore, intanto oggi il virus sembra meno aggressivo, è davvero così? E quanto incide anche il caldo di questo periodo? Si riesce così a contrastarlo meglio? Diciamo che addirittura il caldo attenua sia la sua violenza sia la capacità di trasmissione sul virus, perché il caldo è come se modificasse un po' la struttura del virus stesso. D'altronde se noi vediamo tutte le persone che oggi risultano positive, per la stragrande maggioranza sono delle asintomatici o paucisintomatici. Di queste che si infettano adesso e che vengono ricoverate in ospedale o addirittura in rianimazione veramente si contano sulle dita di una mano non tanto in Avellino quanto addirittura in tutta quanta la regione. Però è pur sempre un virus, quindi comunque la nostra soglia d'attenzione deve essere sempre la stessa, usare le mascherine quando è necessario, lavarsi le mani e mantenere una distanza. Che il virus effettivamente abbia perso un po' delle sue caratteristiche iniziali, lo dovuto al fatto che noi abbiamo assistito a degli assembramenti, post partite, qua pure ad Avellino. E tutto sommato poi alla fine è successo ben poco. Tutta questa trasmissione non c'è stata, la ragione ci sarà. Certo, c'è stata la festa del Napoli, la festa del Benevento, insomma in qualche modo i contagi non ci sono stati. Intanto però il Presidente De Luca si è arrabbiato alla luce di questi assembramenti, del caos che si è registrato soprattutto nei weekend sulle spiagge della Campania ha detto De Luca in queste condizioni a settembre non ci arriviamo. Ha ragione il Governatore insomma a preoccuparsi? Lui si preoccupa, fa bene a preoccuparsi, fa bene a fare queste uscite un po' esagerate anche per far elevare un po' il livello di attenzione. Perché certe volte anche sulle spiagge si possono mantenere delle distanze senza comunque evitare di poter parlare, di chiacchierare. Cioè bisogna un po' modificare il nostro modo di vivere, almeno per ora, ma io credo che forse questa lezione di igiene forse ci voleva. Questo ci mette a riparo pure da tantissime altre malattie che si trasmettono proprio col contatto umano più diretto. Quindi diciamo che poi si potesse pensare di continuare a stare chiusi in casa o mantenere distanze incredibili fra l'uno e l'altro era impossibile. Io ripeto, fa bene il Governatore ad alzare il livello di attenzione, però insomma tutto questo terrore io non lo condivido. Certo, intanto i comportamenti da evitare, l'uso della mascherina anche nei luoghi all'aperto secondo alcuni sarebbe utile. Lei che cosa dice? Soprattutto anche per quanto riguarda l'utilizzo dei guanti, perché c'è stata in questo senso anche qualche polemica. Allora, il discorso, guardate, va fatto un po' in modo più serio. In che senso? Noi parliamo di mascherina chirurgica. Se la mascherina chirurgica l'usano tutti, va benissimo. Se l'usano il 50 o 60% delle persone serve a ben poco, perché ci sa quello che non usa, che butta in aria tutto quello che vuole, i droppalette, tutte le goccioline, eccetera. Quello che c'è la mascherina chirurgica, comunque respira, perché la mascherina non filtra, serve più per gli altri che per se stessi. Diciamocela tutte, se uno vuole avere più tranquillità dovrebbe usare un FFP2 senza filtro, in modo che filtra tutto quello che uno butta fuori, è tutto quello che respira. Il problema però è un altro. Provate con questo caldo a tenere sia una chirurgica che sia un FFP2 per strada. Veramente diventa un'impresa non indifferente, soprattutto addirittura sopra una spiaggia. Quindi io consiglio la mascherina quando si va in luoghi chiusi. In luoghi chiusi forse vale la pena utilizzarla, soprattutto quei luoghi chiusi poco aereati e dove c'è molta gente, dove le distanze non possono essere mantenute. Sui guanti al supermercato che cosa dici? Allora è meglio lavarsi le mani. Ogni supermercato ha messo all'ingresso quei dispenser, ho guanti oppure c'è il dispenser con l'idrogel. Io personalmente quando vado, accompagno mia moglie, vado io perché mi dice vai a comprare, io utilizzo l'idrogel. Entro, mi do l'idrogel, faccio tutto quello che devo fare, pago, quando poi sto per uscire, riutilizzo l'idrogel e porto la roba fuori. È la cosa migliore. Invece dell'idrogel uno vuole usare i guanti ma li deve usare così, cioè li metta all'ingresso, li toglie all'uscita. Però è preferibile che uno usa l'idrogel, è molto più igienico. Intanto professore, sui contagi c'è un'ultima novità. L'OMS, alla luce di una lettera di 239 esperti, ha ammesso che il coronavirus può trasmettersi nell'aria. Ecco, questo quanto deve allarmarci, secondo me? Allora, guardate, ogni tanto fanno delle scoperte che sono scoperte che non sono scoperte. Perché quando noi parlavamo dell'influenza stagionale, cioè quella che viene tutti gli anni, una delle prime cose che si dice qual è? Evitare di stare in luoghi giusi poco aereati. E questo è perché il droplet, cioè quelle goccioline, le più piccole, non vanno a terra ma rimangono un po' in aria per un certo periodo perché sono molto leggeri. quelle potrebbero essere fonte di contagio, ma parliamo di locali giusi e poco aereati e molto affollati. Non è che se io esco qua da Ottociana, mi faccio una passeggiata, sul marciapiede ci sta uno e io trovo il virus. Il virus non lo trovo a meno che non mi avvicino a meno di un metro la persona alla quale parla e con le goccioline me le trasmetto. Il distanziamento in questo senso è utile. Quindi insomma sono scoperte per modo di dire. Senta, ma in autunno davvero dobbiamo aspettarci il ritorno del Covid? Allora io mi aspetto in autunno quello che sta succedendo adesso, forse qualche caso in più, ma non più di tanto. E questo perché? Soprattutto perché tutti noi abbiamo imparato, abbiamo imparato che cosa? Come difenderci. Io per esempio venendo qua ho visto che molti tenevano le mascherine, uscivano da dei locali giusi con la mascherina. Quindi tutti noi abbiamo capito che per difendere abbiamo usato la mascherina, un po' di distanza è uguale. Questo lo facciamo oggi, lo faremo ancora di più. Quando comincerà a fare più freddo staremo in locali giusi e quindi frequenteremo di più dei locali giusi. Ma che un domani ci sia questa seconda ondata terribile, non ci credo, non ci crederò mai. Sicuramente avrò ragione perché poi vi potrete intervistare in autunno. In autunno. È chiaro che se oggi dico ci sarà la grande ondata, nessuno se ne ricorderà perché se è la grande ondata non ci sarà. Se io dico non ci sarà e poi ci sarà qualche caso in più, dicevete, aveva detto. Però io sono cosciente di quello che dico e vi dico che questa seconda ondata non ci sarà. Ma probabilmente ci sarà forse qualche caso in più. A meno che il virus non muterà ulteriormente o addirittura il vaccino prima o poi arriverà o arriveranno gli anticorpi monoclonali che praticamente servono per bloccare subito la malattia praticandoli, tipo il plasma, quello là che si fa oggi. Senti, professore, molti esperti insistono sulla necessità di vaccinarsi in autunno contro l'influenza che arriverà. Secondo lei davvero può essere utile questa misura per combattere il virus? È utilissimo perché? Primo perché uno non si piglia l'influenza stagionale, che pur sempre i suoi morti li fa ogni anno, quindi non ce lo dimentichiamo. In Italia muoiono molte persone con l'influenza stagionale. Fare la vaccinazione per l'influenza stagionale ci garantisce che cosa? Primo che non avremo febbre dalla... e quindi se uno ha un po' di febbre in autunno, la prima cosa che uno pensa è che non è che è il coronavirus. E poi, ripeto, evitiamo di depistare i medici. Se uno è vaccinato l'influenza stagionale non sa la piglia, quindi se ha l'influenza della febbre forse vale la pena di fare subito un tampone e verificare. È più per proteggersi da una diagnosi sbagliata. Sì, insomma, sarà sicuramente molto utile. Per chiudere, professore, questa nostra intervista, questa emergenza sostanzialmente, che cosa ha insegnato? Qual è soprattutto la lezione che non dobbiamo dimenticare? Allora, guardate, è un discorso lunghissimo questo qua, voglio velo... in poche parole. Noi abbiamo globalizzato il mondo e globalizzando il mondo abbiamo globalizzato pure le malattie. Il che significa che una malattia che sta a Hong Kong dopo poche ore e arriva a Roma con gli aerei e tutto il resto. Quindi, diciamo, la globalizzazione è anche delle malattie. Quindi, che cosa significa? Che noi dobbiamo sempre di più mantenere un sistema sanitario nazionale il più possibile efficiente. Perché se noi avessimo avuto all'inizio, in Italia, in tutte le regioni italiane, in tutte le regioni, una struttura territoriale adeguata, preparata, noi tutti quei morti non l'avremmo fatta. Avremmo stoppato, come dire, la pandemia molto prima. Infatti ci abbiamo messo un po' di tempo. E quelle regioni le quali tenevano un sistema sanitario ben rodato, tipo il Veneto, lasciamo perdere l'Italia meridionale, perché quello è tutto un altro discorso. Da noi il virus è arrivato, ne è arrivato ben poco, siamo stati fortunati, siamo stati anche bravi, tutto quello che volete. Ma facendo riferimento alle regioni del nord, noi vediamo che chi si è diviso meglio è stato il Veneto, perché il Veneto ha una struttura territoriale magnifica. Quindi quei casi in più che hanno avuto, li hanno avuti perché stavano vicinissime alla Lombardia. La Lombardia che aveva fatto invece aveva puntato tutto sugli ospedali e poco sul territorio e quindi ha avuto i problemi che hanno avuto. Quindi che significava? Se noi tenevamo una quantità di tamponi subito, cosa che è capitata poi in Corea del Sud e in Thailand, dove che cosa hanno fatto? Tenevano già tutto pronto perché avevano avuto la SARS e si erano conservate mascherine, guanti e anche la possibilità di avviare subito, la possibilità di fare dei tamponi. Per questo loro hanno avuto un lockdown che è durato pochissimo, l'economia non ha risentito, cosa che invece noi ci siamo trovati del tutto sprovveduti. Insomma speriamo che questa emergenza servirà. Il sistema militare nazionale ha avuto una lezione importante, quindi credo che forse, 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 la lezione la ricorderemo. Speriamo che sia davvero così. Grazie intanto professore Nicola Conner per essere stato nostro ospite, è stato sicuramente molto utile per quanto riguarda i suoi consigli per combattere il virus, il Covid-19. Come sempre per noi in regia Aldo Fenizia, grazie a quanti ci hanno seguito, buon proseguimento con 8 Channel. Arrivederci.